guardate gli uccelli del cielo non seminano non mietono non raccolgono in granai e il padre vostro celeste li nutre non varete molto di più di loro e chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita il signore grande fratelli sorella e gli sfama tutti gli uccellini del cielo li conosce tutti li ha creati lui ma ha creato tutti quanti noi conosce i nostri cuori per il suo grande amore gli ha mandato il suo unigenito figlio a morire sulla croce per i nostri peccati dove inizia l'ansia finisce la fede dove inizia la fede finisce l'ansia l'ansia è la nemica della fede sapete perché perché l'ansia prende il posto proprio della fede iniziamo a dubitare di dio iniziamo a dubitare della provvidenza di dio iniziamo a dubitare dell'aiuto di dio iniziamo a pensare che forse siamo stati lasciati e abbandonati egli dà cibo a tutti i suoi animali alle sue creature provvede dio perché noi noi fratelli e sorelle dobbiamo vivere in uno stato d'ansia